Grande festa per il conseguimento dei titoli vinti in ambito motociclistico dell'azienda TM Racing di Pesaro nel settore go-kart e moto. La TM è un'azienda storica nata nel 1976 da due amici che avevano in comune la passione per le moto e le corse. Grazie all'eccellente qualità e le alte prestazioni delle moto, questa piccola azienda pesarese è diventata in pochi anni una grande realtà. Molti sono stati piloti che si sono susseguiti alla guida di Moto TM ottenendo ottimi risultati in campo nazionale ed internazionale ma anche del settore kart dove l'azienda con i suoi motori è diventata leader in poco tempo. Abbiamo vinto un titolo di campioni del mondo con Andrea Verona nella categoria Junior 1 e anche un titolo di campioni del mondo Junior assoluto sempre con Andrea e siamo campioni italiani. Poi con Loic LaRieu che è un pilota francese che ci aiuta anche a supportare il mercato francese abbiamo vinto il campionato del mondo della categoria E2 e il campionato francese. Poi Daniel McKennie che ha partecipato al campionato inglese e ha fatto secondo nella categoria E3 sempre nell'enduro. Nella go-kart siamo stati campioni del mondo della categoria KZ, campioni del mondo europei di categoria KZ2 e siamo campioni anche della 24 ore di Le Mans che è una gara di endurance che si partecipa con quattro piloti. La filosofia che da sempre distingue TM è la scelta dei materiali per l'ottima qualità e le lavorazioni definite da alcuni addirittura maniacali per non parlare delle grandi prestazioni dei propulsori che equipaggiano le moto standard, in molti casi nettamente al di sopra dei motori ufficiali della concorrenza più alta. Il team ha voluto festeggiare i traguardi raggiunti con un grande momento conviviale. Abbiamo pensato di organizzare questa festa per tutti i dipendenti che sono le persone più importanti dell'azienda perché comunque continuano a supportarci, sono loro che montano le moto con grande dedizione tutto il giorno e sono una parte fondamentale. Quindi non è solo un lavoro importante di team sul campo gara ma è un lavoro che viene a monte, che viene fatto in azienda con grande dedizione tutti i giorni e contribuisce ai successi sportivi e anche ai successi commerciali.